Accostare nanotecnologie e beni culturali potrebbe sembrare una forzatura ma invece non lo è. Entrambi i settori mirano infatti allo stesso obiettivo, rivalutare i siti di importanza storica e di interesse mondiale. Stiamo dando l'opportunità ai beni culturali, quindi alle risorse che abbiamo come storia nel mondo, di integrare le nostre particelle sulle superfici in modo tale che le superfici rimangano integre e non aggredite da smog e quindi rimanere preservata nel tempo. La Sicilia possiede un immenso patrimonio architettonico-culturale che per le istituzioni spesso sembra invisibile. Restauri e recuperi degli edifici storici incontrano spesso ostacoli burocratici. Oggi un contributo può arrivare proprio dalla nanotecnologia. L'UNESCO è molto molto interessata a tutte le nuove tecnologie perché purtroppo in questo momento non c'è abbastanza ricerca nei metodi e nei sistemi di restauro come c'era una volta. L'introduzione di tecnologie meno invasive può aiutare molto a disfigurare un restauro più a lungo termine. Palermo ha fatto grandi passi avanti ma c'è ancora molto da fare. Tanti monumenti hanno bisogno di restauro come in tutta la Sicilia. E intanto proprio sui beni culturali arriva un nuovo allarme dal sindacato autonomo dipendente in regione siciliana secondo il quale si rischia la chiusura dei musei nel mese di dicembre. Il personale di vigilanza custodia accoglienza al pubblico afferma l'organizzazione ha esaurito i turni. Sono quindi a rischio le aperture al pubblico e di servizi essenziali dei musei, delle aree archeologiche, gallerie d'arte e biblioteche.